Musica Giuseppina Occhio Nero, 39 anni, avvocato, già assessore comunale nel comune di Campomarino, candidata alla Camera dei Deputati come capolista al proporzionale per Liberi e Uguali. Benvenuta. Grazie. Una donna in politica, cosa significa? Beh, innanzitutto credo che non sia poi la presenza del genere donna a qualificare una lista, però credo che sicuramente contribuisca con una sensibilità particolare e approfitto per dire che, per rispondere a chi ha detto che siamo state delle foglioline verdi gettate qua e là, appunto per rispondere che la fogliolina verde è un germoglio e quindi indice di una vita che cresce, di una pianta che può crescere e quindi preferisco essere una fogliolina verde in un prato grande verde. Tante donne candidate, la Tartaglione, la Fanelli, la Venitelli, come giudica queste sue colleghe? Ma io non le giudico, non tocca a me giudicarle, sono tutte persone che stimo ognuno per quello che è la loro professione, la loro attitudine. Senta, Salvini è al centro delle polemiche sia per quanto riguarda le frasi razziste, i fatti di Macerata, ma soprattutto anche su un'ultima proposta, quella di riaprire le case chiuse. Cosa ne pensa? Ma intanto io preferisco concentrarmi, mi sono candidata per fare gli interessi del mio Molise e adesso voglio partire da qui, quindi per cercare di portare agli occhi di tutti un Molise che c'è, che non è vero, che non esiste. Quindi il mio impegno è concentrato più che altro sul mio Molise, che voglio far riscoprire e vorrei che si ribaltasse il tormentone che il Molise non esiste. Il Molise c'è, lo dobbiamo far vedere. Anche a Salvini che qui candida la Romagnolo? Lo facciamo vedere a tutti, anche a Salvini. Senta, ci sono state molte polemiche fra il vostro nuovo partito e il Partito Democratico dal quale molti esponenti di Liberi Uguali arrivano. Come giudica questa dicotomia? Ma intanto io partirei dallo slogan di Liberi Uguali, per i molti e non per i pochi. E forse, anzi sicuramente il PD si è un po' allontanato da questi principi che per noi sono fondamentali, quelli della sinistra che noi rappresentiamo. E d'altra parte, nonostante insomma i grandi imprenditori del nostro territorio hanno tutta la mia stima, credo che sicuramente non incarnino quelli che sono i principi veri della sinistra. Una critica con la vita? Una riflessione. Senta, Frattura come lo giudica come Presidente della Regione? Ma Frattura è stato il nostro Presidente e l'ho sempre rispettato per il ruolo che ha ricoperto. Solo questo? Penso che non sia poco. Senta, invece Facciolla che è in piena bagarre elettorale, polemizza adesso con Federico, adesso con Di Maio? Ma il collega Facciolla è una persona che sta facendo il suo percorso, lo ha fatto fino ad ora e continuerà a farlo ed è giusto che sarà così. Poi saranno i cittadini a decretare il proseguimento del suo cammino. Ovviamente lei metterà la croce su Libri Uguali, sull'Avvocato Reste Campopiano. Certamente. Come giudica questa sfida fra i due? Ma non è una sfida. Secondo me sono due personalità che si mettono in gioco per fare gli interessi della nostra terra. Chiaramente il collega Campopiano fa parte della mia compagine, quindi lo stimo particolarmente e so che sarà in grado di portare il Molise ad allontanarsi da quelle logiche solite che finora ci hanno governato. Sembra molto pagata con dei toni moderati. Eppure il suo referente a livello di partito Danilo Leva, l'onorevole, è molto duro invece con il gruppo Patriciello e soprattutto con Pietracupa. Sì, anche perché lo spessore dell'onorevole uscente Danilo Leva è diverso dal mio. Io mi ritengo appartenente al mondo civico e quindi certe riflessioni preferisco farle fare a chi poi la politica la fa sicuramente più di me. Io penso di poter essere un contributo nuovo, giovane, una fogliolina verde, appartenente però al mondo civico. Il magnifico Rettore Palmieri ha detto via le tasse universitarie. Sì, in realtà ecco il progetto di Liberi Uguali che lo dice e noi siamo dei sostenitori. Il Rettore Palmieri ha tutte le competenze per poter portare avanti questo discorso che io condivido. Perché tra i banchi di scuola si creano le prime disuguaglianze che assolutamente non devono esistere. E il proclama di ideali di Liberi Uguali punta proprio su questo. accorciare le distanze anche attraverso la cultura e la formazione. E credo che sia nobile come progetto. Lei immagina che il senatore uscente del PD Roberto Luta appoggerà questo vostro movimento oppure voterà per il Partito Democratico? Io non lo so. Credo che gli chiederò il voto come l'ho chiesto a tutti. Bene. Senta, tornando ai fatti di Macerata, il prefetto ha impedito ogni tipo di manifestazione, sia quella dei movimenti neofascisti ma soprattutto anche quella antifascista. È una scelta giusta quella del prefetto? Ma guardi, in questo caso credo che sia sempre difficile giudicare le scelte, soprattutto quando il clima è di tensione come quello degli ultimi giorni. E credo anche che forse questo dipenda dal fatto che l'onda fobica del razzismo bussa con sempre più prepotenza alle porte della nostra società. e forse troppo spesso apriamo le porte a causa di una paura che nutriamo, la paura che anche i principi saldi della nostra Repubblica Democratica ci danno il passo all'ignoranza, all'odio e alla violenza. E io vorrei che il nostro tricolore fosse sventolato in una maniera dignitosa e fiera come del paese che ripudia la guerra e l'odio, il razzismo, il fascismo attraverso le armi dell'intelligenza, del diritto, della giustizia. Senta, Berlusconi ogni giorno ne tira fuori una. L'altro mattina a Radio 24 ha riutilizzato la parola condono. Sì, il presidente Berlusconi sa sempre quali termini utilizzare per fare breccia nel cuore di chi forse crede ancora alle favole. Senta, come ritiene l'affermazione di Salvini che l'Islam è una religione che va contro la Costituzione italiana? Ma io credo innanzitutto, appunto da avvocato quale sono, che la Costituzione italiana debba essere ben impressa nella mente di tutti noi. E questo significa proclamare l'uoglianza, la libertà, che però chiaramente deve coniugarsi con l'idea di giustizia. Senta, e per quanto riguarda invece l'idea che qui l'onorevole Leva ha lanciato di tassare di più i patrimoni dei ricchi, lei è d'accordo? Beh sì, in fondo chi è più ricco è giusto che paghi più tasse. Senta, come cercherà di convincere gli elettori molisani? Con quali proposte? Ma io dico questo, innanzitutto con un inno di positività e di gioia. E l'ho detto prima e lo ripeto a gran voce, il Molise c'è, facciamolo vedere. Disvegliamo la bellezza nascosta, trasformiamola in bellezza utile. Io mi inorgoglisco in questo momento della mia vita, perché appartengo ad un progetto che ritengo possa farci uscire fuori dalla povertà in cui ci hanno gettato anni di politica miope, che è stata più che altro guidata dalle scelte personali e non dalla stella polare degli interessi del nostro Molise. E quindi vorrei che questo progetto superasse queste povertà e che diventasse un inno di gioia. Ed è un progetto dedicato a chi come me, giovane, donna, ha ancora voglia di credere, di lottare e di sognare. Senta, può invitare solo una persona a cena, la Boldrini o Grasso? Beh, in realtà mi aspetto che mi invitino loro a cena. La Giuseppina, per tutti gli amici, per chi la conosce, è Giussi Occhio Nero, pensa di potercela fare. Del resto il proporzionale alla camera del Molise è una vera lotteria, non si sa chi uscirà. Magari toccherà a me. E allora in bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie a tutti.